Settantunesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, siamo alla serata conclusiva, siamo con Maria Guerrino e con Mario Santoro. Maria, un messaggio importante è quello per contrastare la violenza di genere, ma soprattutto per sensibilizzare che forse è meglio amare piuttosto che colpire. Sì, noi siamo qui con Ciao Nina, che è proprio un progetto sul femminicidio, con il messaggio di forza alle donne di scegliere la vita, scegliere se stesse e denunciare sempre. Questo è il nostro messaggio detto in poche parole. Mario Santoro, un messaggio importante, riconoscimenti importanti. Le tue sensazioni qui al Festival del Cinema di Salerno? Io tra l'altro ho fatto una corsa, sto venendo da Malta, quindi davvero ci tenevo tantissimo ad essere qua stasera. È la prima volta, pur essendo di Salerno che vengo al Festival, e sono rimasto davvero molto contento. Ringrazio per il premio e invito tutti a vedere il nostro film, perché comunque secondo me è davvero una perla che abbiamo portato anche a Venezia al Festival.